C'è chi corre per vincere, per conquistare podi e sollevare trofei e poi c'è chi corre per stare bene, per sfidare se stesso, l'amico di allenamento, per il semplice piacere di farlo. A Trento, nel 2009, il Marathon Club nasce proprio con questo scopo, riunire quanti amano il running, lo vogliono fare in compagnia, col sorriso sulle labbra, seguendo uno stile di vita corretto e sano. I dati dell'Organizzazione Mondiale della Salute, con le linee guida che sono uscite proprio a inizio di aprile, dicono che il 60% delle persone a livello nazionale sono inattive, quindi l'importanza di mettersi in movimento, proprio perché la nostra vita sedentaria ci porta a muoverci sempre meno. I livelli sono dunque tra i più disparati, si può cominciare anche da zero. Il martedì e il giovedì alle 19.45 ci si trova il parcheggio Ex-Sit di Trento e si comincia gradatamente ma costantemente, con corsa alternata camminata e poi via via aumentando secondo i consigli degli esperti. Nel 2015 a questa iniziativa partecipò un po' per caso anche Alberto Avi, una vita sedentaria, parecchi chili di troppo e nessuna esperienza con la corsa, una scelta che gli ha rivoluzionato in breve tempo l'esistenza. Nei primi mesi del 2017, a meno di due anni dalle prime corse, ha già all'attivo due maratone. Pesavo 120 chili. Ho avuto la segnalazione di questa iniziativa Corri da Zero da mia sorella che ha insistito affinché io partecipassi. Io ero molto scettico perché per anni avevo svuoto una vita fortemente sedentaria. Quindi nessun tipo di sport. Nessun tipo di sport. Quindi la corsa per me era un qualche cosa dalla quale stare molto lontani perché la vedevo come una cosa estremamente faticosa, estremamente poco adatta al mio caso. Dopo un mese, un mese e mezzo, il mio obiettivo principale, cioè la perdita di peso, è passata in secondo piano ed è nata proprio la passione per la corsa.